Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovannino Tondo, da questo giardino colorato di verde, gli uccelli, ecco sono tanti elementi che ci fanno ritornare un po' al 1904 parlando di Padre Pio perché nel 1904 lui scrisse un tema dedicato alla primavera, a questo bellissimo periodo dell'anno che stiamo vivendo, bellissimo per i tanti colori che vediamo e viviamo. Componimenti scolastici è l'ultima parte dell'epistolario di Padre Pio, sono quattro volumi ma poi c'è anche un piccolo volumetto che sono i componimenti scolastici dedicati a dei temi e dei componimenti che il giovane Francesco Forgione e il giovane Frappio da Pietrelcina scrisse e noi andiamo a individuare il tema numero 50 perché parla della primavera, venne chiesto agli studenti di descrivere questo periodo dell'anno, ecco che cosa scriveva Frappio da Pietrelcina nel 1904 a Sant'Elia Pianisi la più bella stagione dell'anno è la primavera, il giorno è abbastanza allungato e l'infuocata primavera fa fiorire ogni sorta di albero, il prato incomincia a rivestirsi tutto d'erbetta, il monte a verdeggiare, gli uccelli pianamente cinguettano entro le macchie e che al loro cinguettare armonioso nessuno sa più sentirsi in pace e quindi giovani e vecchi, ricchi e poveri, signori e contadini tutti escono fuori dalle loro abitazioni e chi va per i prati e chi va per i boschi, chi accogliere fiori, chi adornarsi di giglie rose, le tempie e la chioma, altri invece montata una nave si affidano alle sorte dei venti, quindi nella primavera tutto il creato è in armonia, ma oddio quanto è differente ancora da questa stagione si bella e si amabile quella dell'inverno, essa col suo orrido aspetto costringe l'occhio dell'uomo non a guardare in alto ma bensì a chinarsi alla terra e a tremare e al contrario della primavera costringe tutti a restare in casa. Grazie Grazie Grazie